Buongiorno e benvenuti a tutti quanti a questa seconda conferenza stampa del Sinodo delle Chiese Metodiste Validesi in corso a Torre Pellice in provincia di Torino. È un saluto particolare qui dalla biblioteca della Casa Valdese dove si svolgono queste conferenze stampa, in particolare alle ascoltatrici, agli ascoltatori di Radio Beckwith Evangelica che ci ascoltano in diretta ma anche ci vedono perché siamo in streaming e alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Voce della Speranza Firenze che poi ci ascolteranno in differita. Il tema di questa conferenza stampa è l'ecumenismo, il titolo è Nuove prospettive per l'ecumenismo. Ne parliamo con il professor Fulvio Ferrario che è il decano della Facoltà Valdese di Teologia ed è anche il coordinatore della Commissione Ecumenica delle Chiese Battiste Metodiste Valdesi e con la pastora Maria Bonafede, pastora valdese, già moderatora della tavola e responsabile delle relazioni ecumeniche della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. L'ecumenismo è un tema imprescindibile di ogni sinodo, di ogni riflessione sulla vita delle Chiese valdesi e metodiste e quindi è un tema che ricorre anche quest'anno. Naturalmente ci sono delle novità, delle nuove cose e negli ultimi mesi la novità più grande è stata questa visita di Papa Francesco alla Chiesa Valdese di Torino lo scorso 22 giugno, una visita nella quale il Pontefice ha espresso la richiesta di perdono per le violenze, talvolta anche gli atti disumani subiti dai valdesi nel corso della storia. Proprio ieri sera, come ultimo atto della seduta sinodale, quindi verso le sette più e meno, il sinodo ha approvato il testo di una lettera che intende rispondere a questa richiesta di perdono di Papa Francesco. Una lettera che inizia dicendo che il sinodo riceve con profondo rispetto e non senza commozione la richiesta di perdono rivolta dal Papa. Dunque il perdono è un elemento del dialogo ecumenico, in che modo lo è, in che senso e in che modo viene trattato questo tema all'interno di questa lettera che è una lettera aperta, il testo già è disponibile, a chi lo volesse leggere lo può trovare sul sito www.nev.it, ma appunto qual è il senso di questa lettera? Lo chiediamo al pastore, al professor Fulvio Ferrari, a cui diamo la parola. Io individuerei tre punti, il primo è stato già ricordato dal moderatore della conferenza stampa, cioè c'è un atteggiamento di rispetto non privo di commozione, cioè quello che è avvenuto a Torino il 22 giugno non è, non succede tutti i giorni, non era mai successo, per questo molti hanno usato l'aggettivo storico per definire la questione, ma al di là dell'evento e della sua risonanza, c'è appunto il rispetto e la commozione sono dovute al fatto che qui ci si pone nell'atteggiamento di un dialogo tra cristiani e anche, certo di fatto, anche di fronte alla stampa, anche di fronte all'opinione pubblica, anche di fronte alle interpretazioni che non dipendono da noi, però appunto, tra cristiani significa, prima di tutto, di fronte a Dio. Questo è ciò che determina il rispetto e anche una certa commozione. Secondo punto, come reagisce il sinodo a questa richiesta di perdono? La richiesta indica, è detto nella lettera, la volontà di voltare pagina e qual è questa pagina nuova che si tratta di inaugurare, è una storia da scrivere insieme e una storia che si pone per entrambe le chiese, questo è detto nella lettera, sotto il perdono di Dio. Il Papa chiede perdono perché si identifica in modo diretto, più diretto di quanto non sia accaduto in passato, è stato rilevato nel dibattito sinodale, non sono stati alcuni figli della Chiesa, a nome della Chiesa Cattolica il Papa chiede perdono, si identifica in modo diretto con una vicenda di persecuzione e qui c'è il terzo punto, la Chiesa Valdese si pone insieme alla Chiesa Cattolica, desidera porsi insieme alla Chiesa Cattolica a scrivere questa nuova pagina sotto il perdono di Dio che ovviamente la riguarda altrettanto e poi c'è questa frase dove si dice non ci sentiamo autorizzati a parlare di perdono a nome di altri che sono quelli che hanno subito, cioè quasi che mentre il Papa si identifica in modo diretto con i persecutori, noi non ci possiamo identificare altrettanto direttamente con i perseguitati, io non ho qui né sangue né catene e anche questo va detto in un dialogo tra i cristiani, non siamo su uno scranno in cui come perseguitati possiamo parlare a buon mercato, ma appunto iniziamo una nuova storia insieme sotto il perdono di Dio, insieme anche in questo. Io direi che questo è il senso della lettera. Bene, grazie professor Ferrario, in fondo questa lettera ha un carattere teologico molto forte, soprattutto nell'indicare un futuro nuovo, proprio perché il significato biblico, il significato evangelico del perdono è quello di poter immaginare un futuro diverso insieme. Se tu dici questa cosa, tu dici questo è il perdono, il perdono che ti mette in cammino. Però appunto è un cammino, quindi c'è stata una richiesta di perdono del Papa, c'è stata questa lettera, ma insomma è un cammino da percorrere, ci sono nuove prospettive, nuove storie, una nuova storia. Qual è questa nuova storia? Quali passi si possono prevedere su questo nuovo cammino ecumenico? Anche però considerando che il cammino ecumenico, il dialogo ecumenico, non è che sono nati con la visita del Papa lo scorso 22 giugno, né si concludono con una parola conclusiva di questa lettera del Sinodo Valdese, ma insomma hanno una loro storia, c'è una fraternità, ci sono degli elementi e dei percorsi che già erano in atto, che continuano ad essere in atto e che hanno portato dei frutti e che ne porteranno ancora. Di questo parliamo con la pastora Maria Bonafede. Sì, grazie a Dio l'ecumenismo è cominciato molto tempo fa e ha visto coinvolta la Chiesa Valdese fin dall'inizio e il lavoro, i contatti, i rapporti con la Chiesa Cattolica nelle diverse situazioni precedono questo momento, ma anche se questo momento è naturalmente da una qualità nuova a questi incontri. Io vorrei segnalare per esempio alcuni mesi fa un evento che a mio avviso è stato molto importante, cioè la firma congiunta da parte della Conferenza Episcopale Italiana e della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e di un numero considerevole di Chiese ortodosse che hanno raccolto l'invito lanciato, anche al di là delle nostre aspettative, di un documento contro la violenza alle donne, documento che metteva in rilievo la grande responsabilità che le Chiese hanno nella formazione dei giovani, dei loro membri, in tante occasioni, dalla predicazione all'aspetto catechetico, ma anche al fatto che bisogna crescere insieme in una reciproca educazione, all'ascolto reciproco, al perdono reciproco, cioè che le Chiese hanno la parola, cosa che molti singoli non hanno, che molte altre associazioni non hanno, le Chiese hanno la parola, hanno la parola all'interno della loro vita, anzi sono costituite dalla parola di Dio e dalle parole con cui cercano di spendere questa parola e di farla penetrare nella vita e quindi hanno una grande responsabilità, anche in questa cosa orribile che è, e che continua, che non si ferma, la violenza e l'abuso delle donne che non è un fatto esterno alle Chiede, ma è un fatto che riguarda le famiglie italiane e dunque anche molte famiglie cristiane nelle quali si consumano atti di violenza terribili, omicidi, tanto che il nostro tempo ha dovuto coniare un nuovo termine che è quello di femminicidio. Questo è stato un evento recente di qualche mese fa, a seguito del quale tra l'altro abbiamo un costante rapporto con la CEI e l'idea appunto di moltiplicare le occasioni di radicamento della parola ecumenismo, cioè di azioni comuni, di lavoro comune. Voglio citare anche un esempio che riguarda la Federazione delle Chiese Evangeliche d'Italia che sta avviando un lavoro di corridoi umanitari in vista di permessi, di visti umanitari per lo spostamento di migranti richiedenti asilo che possano raggiungere luoghi sicuri con mezzi sicuri, quindi con l'aereo e non con barche di fortuna. Questo lavoro lo stiamo facendo, lo stiamo iniziando insieme la Federazione delle Chiese e la Comunità di Sant'Egidio che è una comunità nota nel quadro della Chiesa Cattolica. Per dire due esperienze estremamente recenti. Certamente ci sono dei frutti del dialogo ecumenico che sono frutti di testimonianza come questi che ci ha ricordato la pastora Bonafede. Vorrei forse solo aggiungere che sulla questione appunto della violenza contro le donne, effettivamente ci sono dei programmi e quindi ancora tutti da considerare, da formulare bene, ma per esempio di avere dei seminari itineranti dedicati alle chiese, chiese protestanti, chiese cattolica, chiese ortodosse in cui affrontare il tema e da appunto spostare da un luogo all'altro d'Italia per rendere viva questa cosa e non lasciarla semplicemente un momento, una firma, una fotografia ecco insomma del marzo scorso. E naturalmente anche ieri sentivamo nella conferenza stampa sull'immigrazione che in fondo tutti i cristiani affermano più o meno le stesse cose su questo tema, sembra essere un tema che unisce i cristiani, fa parte dell'ecumenismo anche questo. Dunque grazie a Maria Bonafede e Fulvio Ferrario per i loro due interventi. Adesso lasciamo uno spazio per chi voglia porre delle domande e approfondire dei temi. Sì, prego. Allora vi prego di avvicinarvi e di presentarvi. Diego Meggiolaro, Radio Bequite Riforma. Volevo sapere se i due pastori ci possono raccontare un po' come è andata la discussione in sinodo sulla lettera, cioè se si è subito arrivati alla decisione di scrivere questo testo, se c'è stata un po' di discussione, se si può raccontare. E poi un commento su come è stata presa dai media nazionali, la stampa Repubblica titolavano i valdesi non accettano le scuse del Papa, forse è stata un po' fraintesa la lettera o è una mia impressione. Grazie. Per quanto riguarda la genesi della decisione è un po' analoga a quanto accade in questi casi, cioè c'è stata una discussione generale orientata da una bozza di documento che era stata predisposta e che la Commissione d'esame ha fatto propria. La discussione si è centrata un po' su questa bozza ed è stata, a mio parere, mi rendo conto che è un po' ufficialoide dirlo così, ma è quello che penso, mi è sembrata una discussione costruttiva. Per quanto riguarda le reazioni, io quando le ho viste stamane sono rimasto francamente costernato e ho dovuto reprimere la prima reazione che è evidentemente fuori posto, soprattutto per chi ha vissuto la storia italiana dagli ultimi vent'anni, cioè la mia prima reazione era di dire sono stato frainteso, ma appunto l'abbiamo già sentita questa e quindi non si può cavare così. E' certo che i quotidiani che lei ha citato e alcuni titoli sicuramente non riflettono lo spirito della lettera, cioè il punto critico che è stato impugnato, cioè non siamo autorizzati a perdonare a nome di altri, certamente intendeva dire di queste cose tra cristiani non si parla a buon mercato. Allora qui c'è qualcuno che ha sofferto e non sono io, quello che io posso fare è prendere estremamente sul serio, con gratitudine, e uso un'espressione sotto la mia responsabilità, questo il sinodo non l'ha detto, e prendere esempio da te e voltare pagina e costruire insieme nella forza del perdono di Dio per te e per me una nuova storia. Questo è quello che si voleva dire. E poi c'è il problema appunto del rapporto tra, è un problema interessante, serio, del rapporto tra un discorso che vuole essere un discorso tra cristiani, e quindi lo ripeto insomma anche di fronte a Dio, cioè che usi le parole in modo responsabile, non a buon mercato, e il titolo, troppo banale sarebbe naturalmente, poi anche scarsamente politico in questa circostanza, dare la colpa ai giornalisti, nello stesso tempo il problema sussiste davvero, cioè forse quello che voleva fare il sinodo era un discorso che si pone su un piano un po' diverso da quello di un titolo, e che accetta una cosa così importante come una richiesta di perdono, in modo ponderato e assumendola come sfida rivolta anche a chi ascolta. Io mi ritrovo al 100% con le parole del professor Ferrari, io credo che il dibattito sia stato un bel dibattito, appunto quando si parla di perdono per noi si parla di una cosa estremamente importante, e quindi riteniamo che Papa Francesco l'abbia detto con tutto il peso che questa parola ha e a nome della sua Chiesa, quindi con un peso molto forte, e noi vogliamo con lo stesso peso riceverla e anche appunto provare ad assimilarlo, a capire cosa si può fare insieme, ma appunto ricordandoci sempre che noi siamo persone libere, che viviamo in un tempo diverso, che non stiamo soffrendo noi per la mancanza di libertà, per la mancanza di parola, crediamo anzi che in Italia si debba allargare questa libertà di parole, di esistenza, di organizzazione, che siano ancora troppo poche le fedi che hanno la libertà che abbiamo noi e che sono nella posizione in cui è la Chiesa Valdese Metodista, quindi diciamo quello che secondo me i giornali hanno detto in modo diverso a come lo diremmo noi, ma ognuno fa il suo mestiere, è che crediamo che perdonare significa avere anche subito, quindi non perdoniamo, il perdono non è qualcosa di leggero, ma noi chiediamo a Dio di perdonare, e quindi riceviamo con grande commozione la richiesta di perdono di Papa Francesco e certamente ci sentiamo anche di cominciare una storia insieme nuova, un nuovo percorso, un percorso che parte dal perdono e non più dal ricordo solo delle vessazioni, e quindi io credo fuori era di un futuro nuovo per tutti, perché il perdono di Dio crea novità nella vita delle persone, e quindi nella vita delle Chiese, e così come il cammino ecumenico è un cammino che ci porta dove non sappiamo ancora, e questo credo che sia il fascino anche, e la bellezza di quando si parla di qualcosa che riguarda l'azione di Dio. Ecco un'altra domanda. Sì, sono Roberto Davide Papini, La Nazione. Volevo chiedere, con il fatto di aver un po' dovuto fare questa precisazione, tornando indietro rispetto alle reazioni che ci sono state, riscrivereste quella frase esattamente come è stata scritta, la mettereste come è stata messa, non la mettereste? Mi permetta di dare una risposta articolata, che non è un tentativo di evadere la domanda, ma si può prenderla anche semplicemente con una dichiarazione di scarsa competenza, per quanto riguarda la comunicazione. Cioè, sul piano su quale il sinodo si è posto, quello, ripeto, del dialogo tra credenti di fronte a Dio, io la manterrei. Nel senso che dice quello che intendeva dire, del resto, penso di non sorprendere nessuno, non è questo un grande scoop, non è stato scritto di fretta quel testo, è stato un po' pensato, quindi anche la sistemazione, l'architettura, diciamo, è frutto di una certa riflessione e l'impressione era che dicesse quello che voleva dire, effettivamente. Dal punto di vista della comunicazione mediatica, insomma, la domanda riprende il problema che io ho menzionato prima, cioè, effettivamente, chi parla vuole comunicare e deve porsi anche il problema di che cosa passa. A cose fatte, dico, beh, se uno ha capito praticamente che si è svolto ieri un film western dal titolo Dio perdona, il sinodo no, ecco, io non sono contento, effettivamente, di questa ricezione, e questo mi dà da riflettere, cioè, bisognerà imparare a dire le cose con la stessa serietà senza dimenticare chi siamo, ripeto, appunto, fratelli che parlano, cioè, mantenere, questo lo vorrei mantenere, quando tengo una predicazione, quando le rare volte che capita in un evento, che questo evento sia sulla ribalta mediatica, a noi non capita tanto spesso, però, mantenere questo fatto che io sono pur sempre di fronte a Dio, cioè, il mio interlocutore è il fratello, la sorella, il Dio di Gesù Cristo, questo resta. Nello stesso tempo non sono solo, sono in un mondo mediatico, e di questo in qualche modo devo tenere conto. Io, effettivamente, su questo secondo, personalmente, su questo secondo punto mi sento impreparato e può darsi che lo sia anche il sinodo, non lo so. Si può anche dire su questo che, giustamente, ogni considerazione per cui uno si sprona a dire meglio le cose che vuol dire va bene, però bisogna anche dire che forse un problema in Italia c'è con il concetto di perdono, che è un concetto molto usato anche dalla stampa, ma mai definito, e in ambito ecumenico c'è il tema della riconciliazione delle memorie che ha a che fare con il perdono e noi poi siamo abituati a giornalisti, insomma, che si presentano alla casa di persone che hanno avuto una disgrazia, un figlio, una figlia, un parente ucciso o morto da qualcun altro e chiedono se li perdona. Se quella frase vuol dire lei immagina un futuro in comune con l'assassino e il suo figlio secondo me sembra che poi è quello che vuol dire perdono mi sembra una domanda un po' forte ecco da fare. Chiediamo magari ancora alla pastora Buonafede se c'è questo problema in Italia con la parola perdono. Beh, c'è molto, c'è, io mi ricordo anche i tempi degli anni bui in cui questa parola perdono veniva richiesta, cioè io dico prendiamo il tema aspetta un attimo ecco quando c'è appunto nel caso di persone colpite perché gli è morto un figlio un fratello un marito una moglie sì può darsi che arrivi il momento del perdono c'è bisogno anche della giustizia il perdono dato così è un perdono molto veloce e non è detto che sia anche altrettanto profondo e convinto quindi io credo che tornando a noi certamente certamente questa richiesta di perdono è stata per noi molto importante molto bella fatta a nome della Chiesa e non dei suoi figli quindi sappiamo che il Papa è l'esponente maggiore della Chiesa e noi crediamo che questo sia qualcosa di prezioso per noi e vogliamo questo testo dice è un fatto questa richiesta di perdono che apre un nuovo futuro questo mi sembra moltissimo dobbiamo rispondere sì accettiamo il perdono certo ma che cosa vuol dire questo che cosa vuol dire nella nostra nella vita di Chiese che hanno nel passato tragedie che vedono posizioni diverse contrapposte cosa vuol dire proseguire il cammino con una pagina nuova vuol dire anche appunto che le memorie vanno riconciliate che forse bisogna anche andare a accogliere nei nostri rapporti poi concreti quali memorie che cosa bisogna anche cambiare quindi nella pagina nuova che si apre quindi mi sembra mi sembra che il documento dica quello che noi ci sentiamo di dire che questa richiesta del Papa non è una passeggiata è una parola pesante alla quale noi vogliamo corrispondere con un'apertura di credito con una nuova storia che cominciamo insieme davanti a Dio che è colui che ci perdona gli uni e gli altri bene se non ci sono altre altre domande concludiamo questa seconda conferenza stampa del sinodo delle chiese metodiste valdesi in corso a Torrepellice in provincia di Torino ringraziamo i presenti giornalisti e altre persone che hanno assistito alla conferenza salutiamo gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Bequite Evangelica che possiamo anche salutare perché come ricordo ci vedono in streaming e anche le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Voce della Speranza Firenze che invece ci ascolteranno nel pomeriggio in differita molte grazie alla pastora Maria Bonafede e al pastore Fulvio Ferrari arrivederci a domani a quest'ora cioè alle mezzogiorno e mezzo a quest'ora finirà anche domani per una terza conferenza stampa del sinodo Grazie a tutti Grazie a tutti